Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 7 maggio 2015 Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 Siamo in diretta alle 7.30 come tutte le mattine dal lunedì al sabato per dare un'occhiata, sfogliare i giornali, il resto del carino, il Corriere Adriatico e il Messaggero Prima però, come di consueto, guardiamo il santo di oggi Oggi è Santa Rosa Venerini La ricordiamo anche, credo, per le scuole qui, cioè una scuola a Fano, Vergine Il sole è sorto alle 5.52, 20.18 invece è il tramonto Vediamo la fotografia di oggi che finalmente è una fotografia che ha tra cielo e terra i colori della primavera E non come ieri o ieri l'altro invece che aveva il colore grigio predominante della nebbia E che ci richiamava invece all'autunno, all'inverno, ecco qui la primavera Dunque con questa bella fotografia e la temperatura che è certamente confortevole Siamo a 17.03, questa mattina alle 7.30, va destinata poi a salire, salire, salire Fino a 25-26 nel corso del pomeriggio Oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in diminuzione Probabile che ci siano anche delle precipitazioni Non si escludono locali brevi, rovesci pomeriggiani Però sulla parte interna della Regione Marche Venerdì, domani, cielo sereno, poco nuvoloso Con temperature minime in ulteriore lieve diminuzione Invece le massime saranno stazionarie Per sabato invece, sabato vedete Sulla provincia di Ancona, sulla costa Sono possibili deboli precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio Invece cielo sereno, poco nuvoloso al mattino Con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio Sul resto della Regione Mentre i venti sono settentrionali di Brezza Tese Le temperature sono senza variazioni di rilievo Per la giornata di domenica invece In particolare nella mattinata Ci sarà un temporaneo peggioramento del tempo Seguito da un rapido ritorno a condizioni di stabilità Le notizie allora Le notizie abbiamo intanto La condanna a otto anni di quel pedofilo Che per diverso tempo ha abusato di alcuni ragazzini Partendo da Facebook, adescandoli sul social network Facebook Ne parlano ovviamente tutti e tre i quotidiani Prima ubriacava i minori Scrive il resto del carino Poi faceva sesso con loro È stato condannato a otto anni per prostituzione Da altri reati Gli incontri si consumavano a Roncosambaccio In una casa di anziani Quando loro non c'erano E in un casolare abbandonato Le ricompense Perché poi questo signore Eccolo qua Lo vedete in questa foto Presa dal suo profilo Facebook Pagava le sue vittime 20 euro a prestazione Solo all'inizio Poi il prezzo poteva calare fino a due sigarette Un tredicenne addirittura è stato vittima Di violenza sessuale E questo è dunque il quadro Il quadro degradante Triste Di quella che è la storia Raccontata ieri dal questore Lauriola Che ha fatto i complimenti ai poliziotti di Fano Per l'indagine I poliziotti di Fano Coordinati Guidati dal dottor Seretti Compito nostro Ha detto È difendere i deboli In questo caso i minori Anche gli anziani Ma resta il controllo Ad esempio Ieri abbiamo segnalato La procura dei minori Accusati Alcuni minori Accusati di vandalismo Andiamo Sull'altra pagina Del resto del Carlino Si parla del convitto Vittorio Colonna Ora il comune Faccia di più È una struttura È una struttura chiusa Ormai da anni È una struttura Che però interessa Gli operatori turistici Della città di Fano Che però sono anche preoccupati Per il destino Di questa struttura Che è nelle mani dell'Inps Il direttore Fiorino Dice Il progetto di recupero Deve avere finalità ricreative A favore Degli insegnanti Il futuro del convitto Vittorio Colonna 17.000 metri quadrati E 290 Pensate posti letto Nel cuore della città di Fano È nelle mani Della direzione generale Dell'Inps Dopo la valutazione Economica Degli interventi necessari Per riaprire La struttura Fatta dalla direzione D'Ancona Ora la decisione Spetta A Roma Poi si parla Delle nomine Degli scrutatori Si va verso le elezioni Il 31 si vota Il 31 di maggio Per gli scrutatori Sono favoriti Ovviamente I disoccupati Domani alle ore 12 A Fano In municipio È stata convocata La commissione elettorale Comunale Per la nomina Degli scrutatori Che saranno destinati Agli uffici elettorali Di sezione Per l'elezione Del consiglio E della presidente Della giunta regionale Delle Marche Esisterà domenica 31 maggio Poi Sempre per quanto riguarda La politica Minardi E Calroni I due candidati In consiglio regionale Duellano Sulle scogliere L'esponente Del PD Dice Presidio in regione L'avversario Ha ignorato Il problema Poi La risposta Dei camperisti A Amerigo Varotti Della Confcommercio Marotti ha detto Se il comune Dà l'autorizzazione A costruire Un altro parcheggio Per i camperisti Noi denunciamo tutto Alla magistratura Questo Varotti Mentre la replica Adesso dei camperisti Sul resto del carino Di questa mattina Dice Il parcheggio dei camper Fa bene invece a tutti Il presidente Paolo Diutallevi Presidente dei camperisti Risponde All'intervento di Varotti Le stime Dell'assessorato Parlano di 25.000 Presenze E dunque Invita a fare Un confronto pubblico Per discutere Del problema Poi sugli esuberi Dell'Ocean Invece Il supermercato Esuberi A livello nazionale Però ovviamente Il supermercato C'è anche A Fano E dunque I sindacati Che hanno proclamato Questo sciopero Per il prossimo 9 maggio Uno sciopero nazionale A salvaguardia Dei posti di lavoro E contro le logiche Di questa multinazionale Invitano Chiamano A partecipare Anche I cittadini E quindi Non solo I dipendenti Del supermercato Di questa catena Di supermercati Allora Andiamo adesso invece A Fossombrone Perché Un consigliere Di minoranza Ha fatto una fotografia Quella che vedete Una fotografia Del centro Di Corso Garibaldi Di Fossombrone Dove le auto Sono tranquillamente Parcheggiate Durante la notte Mentre Come Previsto Da alcune Delibere Del comune Di Fossombrone In Corso Garibaldi Corso Garibaldi Allora La Pechiese invece Vedete questo signore Qui Ecco Non è un signore Qualsiasi È un vescovo Con il contanto Di casco Il vescovo Tifernate Di città di Castello Per Che 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 È salito In In moto Pensando appunto Alla sicurezza Evidentemente Si tratta Di una Manifestazione Per promuovere Appunto La sicurezza Sulle strade Poi Invece L'altra notizia Eccola qua Guardate Il Si parla del Miracolo Della mano tagliata E riattaccata Qualcuno ricorderà Con l'incidente Nell'azienda Lana Flex a Pesaro Dove Ad una Donna Ad un'operaia Un macchinario Ha staccato Ha tagliato Praticamente La mano Tranciata Di netto Ecco Parlano i medici Che hanno fatto L'intervento Dicono i chirurghi Per noi Questa ormai È routine L'operazione È andata Molto bene L'amputazione Netta Ha paradossalmente Favorito Dicono i medici Il nostro Lavoro È incredibile Eppure Nel giro di due settimane Questa donna Croata È già tornata a casa E dicono i medici Certo Ci vorranno Ci vorranno mesi Anni Almeno Un paio d'anni Affinché si possa Dire che il peggio È passato per lei Però Dobbiamo dire Che tutto è andato Alla perfezione Quindi il rischio infettivo È stato minimo Insomma Il trasporto Dell'arto È stato fatto Tutto è andato Nel migliore dei modi Poi ci sono tutti i dettagli E i particolari In questo servizio Del resto del carlino Il resto del carlino Che per chiudere Le pagine Che Analizziamo noi Nella nostra Rassegna stampa Questa materia Si occupa anche In due pagine Noi ne leggiamo Soltanto una Delle problematiche Della viabilità Delle strade Che sono Quelle provinciali Sono strade Colabrodo Si parla poi Delle lunghe code Lungo la Flaminia Che ci fanno perdere I turisti La denuncia Di questo Di Anacleto Pierfranceschi Che mostra un buco Addirittura Sul viadotto A Cagli Gli Umbri E i Romani Vanno verso la quadrilatero Ci sono 1430 chilometri Di strade Da controllare Da sistemare Cunette Chiavicotti Oltre alle reti Metalliche Delle scarpate Insomma È tutto Da controllare Da rimettere A posto E sono Milioni Milioni di euro Che purtroppo Come ben sapete Non ci sono O meglio In alcuni casi Ci sono Come vedremo Ecco 6 milioni Di euro Ci sono Per esempio Ce li ha Fossombrone Ma ce li ha Anche il comune di Fano Ce li ha Anche il comune di Pesaro Ce li hanno Tutti quei comuni virtuosi Che però purtroppo Sono bloccati Dal patto di stabilità Il sinaco Per la gaggia Presente Il bilancio Consuntivo Risparmiato Un tesoretto Che però Non sarà Spendibile Dal Corriere di Fano Ragazzini Adescati Violentati In un gruppo Ecco la foto Dell'arrestato Che è stato condannato Si faceva chiamare Giulio Un profilo Facebook Di copertura Julian Asa In realtà Questo è il suo vero nome È recidivo Perché era stato già arrestato Per un precedente episodio Di violenza sessuale Su un minore Quando risiedeva A Cucurano di Fano Lo avevano sorpreso In flagranza di reato I carabinieri Nel 2013 Dopo essere stato scarcerato Era tornato a Fano Dove vivevano La moglie E il figlioletto Pensate che era stato Anche denunciato Per abbandono di minore Abbandono di minore Dopo aver lasciato Il suo bambino in auto Mentre si appartava Con un ragazzino La truffa dello specchietto Non sto qui a ripetervi Qual è la truffa dello specchietto Perché ormai L'abbiamo detto In questi dieci anni Di Fano TV In tutti i modi In tutte le salse E ve lo diciamo Tutte le volte Che appare Sui quotidiani Quindi la truffa dello specchietto Preso di mira Un medico L'auto Causa Un urto Leggero I due stranieri A bordo Si fanno dare 50 euro Per evitare Di chiamare La polizia Cumulo di incarichi Politici Minardi Vince la sfida Tavolino Gaff sul codice etico L'ironia di Accoto Dei 5 Stelle Che insiste sulle dimissioni La candidata In regione Segnala I 25 anni di carriera Del presidente Del consiglio comunale E quindi Insomma La diatriba politica Continua Tra PD E Marche 20 e 20 Polemiche Invece anche Sulle scogliere Botta risposta Sulle colpe Dei ritardi Il PD Alza la voce Invece Questo è un altro problema Quello del Possibile rimpasto In giunta Fano Vogliamo una verifica Marchegiani punta il dito Su noi città E sull'atteggiamento Di Riccardo Severi Il voto anomalo Sull'ex Zuccherificio Mozione sull'urbanistica Tensioni in maggioranza La consigliera Serra critica Errore politico La sottoscrizione De con il centrodestra Aperture da condividere E Sinistra Unita Non ha firmato Andiamo sulla pagina Di Fano Della Valle del Cesano Asfaltature In mezza provincia Disagi per il traffico È la stagione Delle asfaltature Insomma Non lamentiamoci adesso Se dobbiamo Stare in coda È vero che Insomma Qualcuno proponeva La notte Eccetera eccetera Però hanno già detto Che di notte Con il tempo che c'è Forse non è il caso Di Non ci sono le condizioni Atmosferiche Per asfaltare Dunque si asfalta Di giorno Non lamentiamoci Per le buche Un giorno sì E l'altro Perché poi Invece asfaltano E ci sono le cose Altrimenti Non nasciamo vivi Arrivano le tele Camere intelligenti Almeno loro L'Unione Roveresca Si dota di strumenti All'avanguardia Leggono anche le targhe Ancora dal Corriere Vediamo le bandiere blu Allora Una sfilza di bandiere blu Conferme Per la nostra regione Dovrebbero Dovrebbero Usiamo il condizionale Perché questa è un'anteprima Un'anticipazione del Corriere Come ogni anno Sulle bandiere blu Dovrebbero rimanere 17 Questi riconoscimenti Assegnati Per la balneazione A 5 stelle Ogni riferimento Tutta la politica È casuale Vediamo Gabicce Pesaro Fano Marotta Mondolfo Senigaglia Ancona Porto Novo Sirolo Numana Porto Potenza Picena Civitanova Porto Sant'Elpidio Porto San Giorgio Fermo Pedaso Cupra Marittima Grotta Mare San Benedetto Martinsicuro Alba Adriatica E Tortoreto Quindi 17 Le spiagge Che avranno Il vessillo Che sventolerà Anche per il 2015 Poi da Senigaglia Sempre dal Corriere Adriatico La cronaca 5 anni a un giovane Per stupro Violenza sessuale Nel parcheggio Di una discoteca 50 mila euro Come risarcimento Alla vittima Poi due lavaggi Autolavaggi Presi di mira Dai ladri Sempre a Senigaglia Malviventi in azione Anche a Montemarciano Rubata l'auto A Luigi Paladini Titolare del Ristorante Piazza Padella Adesso per chiudere Velocemente Andiamo sul messaggero Expo Corsa contro il tempo Vertice La Camera di Commercio Per organizzare La giornata Pesarese a Milano Il Monte Feltro Cerca ancora uno spazio Drudi Dice intanto Pensiamo Finire La data Truffa del biologico In manette A Malta Mediatore commerciale Su esecuzione Di un mandato Di arresto europeo Della procura Di Pesaro Poi Sempre sul messaggero I sindaci Ai candidati Se ascoltate noi Ascoltate i cittadini Ceriscioli Dice Porterò a Palazzo Raffaello La mia esperienza Di Pesaro Mentre spacca Fronte Regione Comuni Contro i tagli Continui Di Roma Ancora Corsa contro il tempo Per non perdere L'Expo Domani ci sarà Un vertice Come abbiamo Già Detto Poi subito Il dregaggio Invece ancora La richiesta Da Pesaro E infine La pagina di Fano Scomparsi I fondi Per Sassonia E il giallo Finisce in mano Ad un legale Il comitato Le brecce Premi sugli enti locali Per districare Il ginepraio Burocratico Finora avrebbero dovuto Essere stati stanziati E ripartiti Almeno 3 milioni Di euro Ma ogni tanto Arrivano Ogni tanto Spariscono di nuovo Ogni tanto Ritornano fuori Insomma Sti 3 milioni di euro Per le scogliere Che dovrebbero proteggere La costa di Sassonia Davvero È un mistero Ci sono Non ci sono Non lo sappiamo È tutto Grazie per aver seguito La nostra rassegna stampa Occhio giornali Torna domani Noi ci vediamo stasera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Noi ci vediamo stasera